Buongiorno a tutti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il Governo, incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno spesso il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politico e che desidero sin d'ora qui ringraziare.